Come andiamo ragazzi? Qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio su Aerial Warriors, l'era della calamità ragazzi Ci troviamo davanti al torrione principale per sigillare la calamità Ganon E in questo quattordicesimo episodio direi che siamo belli carichi per andare a sfasciare definitivamente Ganon Come al solito vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistare il gioco e il link alla playlist per seguire gli episodi precedenti E ovviamente la serie non finisce qui perché ci saranno alcune cosette che voglio comunque portare In episodi che penso chiamerò X1, X2 e via dicendo, X starebbe per extra E ovviamente cambieremo anche la miniatura, la facciamo blu perché la calamità Ganon sarebbe sconfitta in caso Quindi sapete già di cosa parlo Siamo belli carichi ragazzi, domanda del giorno Nello scorso episodio avete visto la forma finale di questa calamità Ganon Da quello che ho capito la calamità cambia forma in base a cosa usa come guscio per effettivamente nascere Quindi non so, qual è la vostra forma preferita della calamità Ganon? Quella che abbiamo visto in Breath of the Wild, quella che abbiamo visto qua dentro, quella che abbiamo visto negli altri giochi Ganondorf, fatemelo sapere voi E noi direi che siamo belli carichi per andare a sfasciare definitivamente la calamità Ah, direttamente qua dentro? Mmm 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 Eccolo Eccolo Ovviamente sarà un boss finale Con le palle Cioè Stra difficile da battere Scommetto Ma l'ho colpito? Non l'ho colpito Ma posso colpirlo con questa? No Mi evita Non posso proprio colpir Cioè Oh Aspetta E se usassi Zelda? Cioè Praticamente gli faccio Danni ridicoli Non funziona No Non funziona Non gli faccio praticamente nulla Cosa possiamo fare però? Forse adesso arriva la Forse adesso arriva la No Sì, sì, sì. E' un po' che c'è Tutti quanti Andiamo. Poniamo fine... a questa battaglia! Vabbè, semplicemente incredibile, ma quindi adesso posso menare, posso menare! Sì, adesso i danni li sente, posso fare tutto, posso fare anche lo stasi, ma quindi ho sprecato due volte la finisher, che bello, che bello! Arrivato il momento di festeggiare, carissimo Castan! Che bello però, prende un sacco di danni! Non me l'aspettavo che prendesse così tanto danno! Guarda quanti! Ma gli altri dove sono? Cioè, c'erano un po' tutti, non li vedo più! Ah, controattacco! Sugoi! Senza volerlo! Cosa devo tirargli? Bombe! Eccolo, eccolo, eccolo! No! Mamma mia! Ma tipo, lo prendo adesso? Non lo so! Sì, l'ho preso! Il danno della finisher però è ridicolo! Vediamo il danno del punto debole invece, se è più alto! Eh, rimaniamo sempre lì! Penso ci siano due fasi a sto punto! Posso usare Link però! Lo considero più divertente! Comunque, è una mia impressione o sembra terribilmente Boros di One Punch Man? E' uguale! Adesso fa anche un collapsing roaring cannon, non mi dispiacerebbe! Fermo lì! Vaga, arrivano i danni! E' bellissimo usare Impa, raga, contro di lui! E' spettacolare! Di un piacevole! Puoi evocare le rane così a caso! Bellissimo! Veramente, veramente bello! Siamo quasi, tra l'altro, a metà vita eh! Tra una cosa e l'altra! Sta subendo un bel po' eh! Un po' di Stasis! Che non guasta mai! Ecco qua! Prendiamo un altro simbolo! Se riesco! Sorbi... Simbolo! Ed ecco qua che ce l'abbiamo tutti e tre! E qua inizia il massacro! Non vorrei essere in Ganon in questo momento! Ma... E adesso? E adesso? Oh! Ma cosa? E adesso? Aspetta, ma questo... Ah! L'avevamo già affrontato, tra l'altro! Sconfiggi definitivamente la calamità! Ma qua, teoricente, non ci potrebbero aiutare i nostri amichetti... Con i colossi sacri? Ehi! Fa nuove mosse! Oh figo, i fulmini! E' arrivato il tempo di usare un altro pollink! Fa veramente tanti danni, comunque! Stiamo attenti! E non voglio brutte sorprese! Aia, che male! Che male! Il punto debole in faccia non ce l'ha più? No, scordatelo! Beh, mezza vita lì l'abbiamo tolta! Ah, insomma, manca soltanto l'altra metà! E ci dovremmo essere, no? Possiamo fare l'attacco punto debole, però per adesso continuere a spammare un pochino! Ok, ora lì lo facciamo! Pochissimo danno! Aia, aia! Niente, non ce l'ha più il punto debole! Comunque sta usando i poteri delle ire! Praticamente le ire sono sufficiente mostri con cui ha condiviso il proprio potere! Probabilmente ancestrali, antichi! No, aspetta! No, 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 no! Qua dovevo usare l'altro! Non dovevo usare il Calamitron! Cioè, non dovevo usare lo Stasis! Dovevo usare il Calamitron, appunto! Aia, aia! Ecco qua! Qua andava lo Stasis! Ma guardalo che spammino! Bello spammino sto Ganon in confronto agli altri! Uh, uh! Cosa sono quelle ali? È diventato un Gundam! Aia, aia! Aia, aia, aia! Aia, aia! È impazzito! Cambiamo su Zelda! Eh, fa malissimo! Fa super male sto Ganon, dai! Anomalo! Ok, un po' di Stasis! Attacco Punto Debole, ti prego dimmi che è l'ultimo! Non ancora! Non è ancora l'ultimo! Ok! Aspetta! Ghiaccio! Ghiaccio! Guarda! Come viene sconfitto miseramente! No! Di nuovo! Quella cosa secondo me se ti becca a shotta! Ganon, puoi, puoi morire per favore! Mi scoccerebbe morire! Basta! Non usare più il potere delle ire! Ho, ho missato miseramente! Ho missato miseramente! Adesso mi tira le cose! No, no, no! Perché tiri cose? Aspettiamo il prossimo effetto che farà! Ok, tira questo! Ok! Eh, anche qua ho missato! Oh bello, perché sei bloccato? Non ho capito cosa è successo! Però sì, va bene! Lo accetto... Umilmente! Sigilla! Clamoroso! Clamoroso! Ponto su di te, roccia! Non si deludere! Perfetto! Ponto su di te! Grazie per la visione! 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 Vi ringrazio! Non potrò mai dimenticare questo miracolo! Il modo in cui avete combattuto tutti insieme! Ve lo prometto! Non lo dimenticherò mai! Pregherò affinché la luce continui a risplendere! Per cento anni e oltre nel futuro in cui voi vivete! E' stato bellissimo! E' stato veramente clamorosa questa parte! Io adesso non so se ci sono per esempio scene extra all'interno dei crediti o cosa! Ma lì voglio vedere tutti quanti! Una cosa è sicura! Il gameplay non è finito perché c'è ancora da fare una piccola cosetta! E adesso non so se cliccando salta ci farà sbucare eventualmente queste altre cose! Ma direi che ci vediamo subito dopo i crediti per scoprire le altre cose che porterò su questo gameplay! Ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!